Un saluto a tutti i miei amici di YouTube e Buon Natale, proprio perché adesso è il 25 dicembre. Io, siccome è il 25 dicembre, volevo dire una cosa. Gesù Cristo è esistito veramente. No come dice Mr. Michilista, Enrico Capaci, che dice che Gesù Cristo non è mai esistito, che Dio è cattivo. No, Gesù Cristo è esistito, è veramente il prediletto figlio di Dio, mandato dall'Arcangelo Gabriele attraverso la Madonna, di cui poi ha partorito la Madonna, ma dopo è rimasta vergine. È tutto vero, ma è un mistero che per fede dobbiamo credere. Gesù, che è figlio di Dio, anche noi siamo figli di Dio, solo che lui era proprio il figlio prediletto, cioè quello che è stato mandato sulla terra da Dio, che era proprio Dio fatto uomo, mandato sulla terra a dire che noi dovevamo essere salvati dal peccato originale commesso da Damedeva, quello della presunzione di essere come Dio, di cui Gesù nacque, così come sappiamo, in una mangiatoia e ci furono tutti i cosiddetti poveri, poveri economicamente, muratori, prostitute, gente di poco valore, anche quei pecorari, persone come panettieri, perché Bethlehem significa appunto città del pane. C'erano molti panettieri a vedere Gesù Cristo e anche molti pastori, come sappiamo, i agricoltori, tutti i poveri della terra furono i primi a vedere Gesù Cristo. Perciò se lo dicono anche le Sacre Scritture, lo dice la televisione, lo dicono i saggi, lo dice la maggior parte, significa che Gesù Cristo è veramente accaduto, anche perché lo dimostrano pure dei servizi molto seri, che dicono che Gesù è veramente esistito. Non badate ai satanisti, agli atei e ad alcuni scienziati miscredenti, che seguire Gesù Cristo è la giusta strada che vi porta a farvi amare e a farvi venerare, come è successo a molti santi, un abbraccio dal Gran Mitico.